La Marina di Andrano, un tempo detta anche Ferronzo, si estende per circa 3 km nella costa orientale della penisola salentina e rientra nel parco naturale Otranto Santa Maria di Leuca. La sua costa, prevalentemente scogliera, comprende la zona torre e la zona botte, collegate insieme dal sentiero delle Agavi, presenti lungo tutto il percorso. Nella zona torre sono oggi presenti due località di mare molto attrattive. La prima è chiamata Grotta Verde, per il colore smeraldo del mare. La seconda è nota come fiume, per la presenza di sorgenti di acqua dolce. La zona botte comprende la località omonima botte, oltre al piccolo porticciolo situato tra le rocce per dare riparo alle piccole imbarcazioni da pesca e da diporto. sempre nella località marina di Andrano è presente Torre Porto di Ripa, una torre di avvistamento risalente al XV secolo. Di essa, ormai ridotta a poco più di un rudere, resta la base di forma circolare troncoconica. Grazie a tutti i nostri spettatori.